Finisce 3-0 per la CONSAR Ravenna, la sfida tra le mure del Palaparenti, tra la Chemaslami per il Santa Croce e la CONSAR Ravenna. Io sono con Coch Bulleri. Coch, sicuramente è una partita difficile da commentare, provaci in qualche parola tu facendo un commento a caldo. Commento con un paradosso, preferisco perdere così, contro una squadra che oggi ha dominato il lungo e il largo per i 3-7, che rimanere con rimorso come contro Prata o contro Aversa. Oggi non c'è stata partita, quindi c'è da fare solo i complimenti a Ravenna che ci ha tenuto sotto pressione con un ottimo livello di servizio e di cambio palla e noi nel nostro campo non siamo mai riusciti a reagire, quindi complimenti a Ravenna oggi e noi voltiamo pagina perché fra tre giorni rigiochiamo e non possiamo presentarci con questo spirito e con questo carattere mostrato oggi. Appunto, l'hai detto tu stesso in conferenza stampa, il bello di giocare partite ravvicinate è il fatto che non hai nemmeno tempo di pensare troppo alla partita che è appena successa ma di mettere subito la testa sulla prossima, quindi con quale spirito deve essere affrontata la gara contro Ortona? Ma credo che oggi deve comunque questa partita qui tirarci fuori qualcosa, non è bello davanti al nostro pubblico giocare in questa maniera, siamo in difficoltà e questo è evidente, quindi bisogna grattare ora un po' nel nostro orgoglio, un po' nel nostro cuore e tirare fuori anche quelle energie che in questo momento non abbiamo, ma la partita di Ortona comincia a essere decisiva per crearci qualche speranza per proseguire il campionato. Grazie mille. Grazie a voi. E in bocca al lupo ovviamente per Ortona. Crepi il lupo. Grazie a voi.